buongiorno a tutti io sono carolina davico e sono digital quality consultant di anguess che si occupa di ottimizzazione di asset ed esperienze digitali attraverso il crowd testing in particolare oggi parleremo del remote usability test come modo per rispondere ai bisogni dei clienti nell'era digitale in un contesto internazionale con particolare focus sul caso toyota insurance partiamo con un overview su quelli che sono i bisogni del consumatore digitale e di come l'usabilità può venire incontro a molte delle sue esigenze i nuovi consumatori digitali portano infatti con sé nuovi bisogni ed esigenze in mondo nel mondo assicurativo i millennials ad esempio che acquistano molto attraverso i canali digitali richiedono da questi sempre più trasparenza velocità accessibilità gli avv digital spenders sono sempre di più alla ricerca di convenienza di semplicità e di velocità e i digital tester richiedono dai canali digitali dai prodotti digitali sempre più usabilità viene da sé che per garantire un'esperienza semplice chiara veloce per il consumatore in accordo con le esigenze da lui manifestate una delle leve fondamentali in mano degli attori dell'offerta è l'ottimizzazione dell'usabilità dei propri prodotti digitali vediamo quindi come il remote usability test può essere una leva utile per ottimizzare l'usabilità di un prodotto digitale in ambito assicurativo più in generale il usability test è un'attività di ricerca in ottica human centered che prevede l'osservazione diretta e l'analisi dell'esperienza di navigazione di utenti in target con il prodotto digitale al fine di raccogliere da loro insights di valore e ottimizzare l'usabilità sono molti i benefici che questa attività può portare prima di tutto incentivare l'utilizzo del sito dell'app da parte dell'utente finale con conseguente impatto positivo sui ricavi nonché impatto sulla riduzione dei costi di sviluppo e ottimizzazione dei processi interni infine ci sono tutti quei benefici intangibili come ad esempio l'aumento della soddisfazione dell'utente finale in particolare il remote usability test è una tipologia di usability test che richiede il coinvolgimento di utenti in target che sono chiamati a navigare il prodotto in condizioni remote il remote usability test è particolarmente quindi adatto a situazioni di ricerca in cui è necessario coinvolgere utenti diversi e distanti tra di loro ridurre tempi e costi di alcune fasi condividere le sessioni con tanti stakeholder delocalizzati tra di loro e raccogliere molti dati in poco tempo per questi motivi il remote usability test si rende davvero utile nel caso in cui è necessario analizzare l'usabilità di un prodotto digitale a livello internazionale cross country è proprio questo il contesto in cui abbiamo aiutato Toyota Insurance a ottimizzare uno dei suoi prodotti digitali Toyota Insurance infatti si è rivolta a noi in quanto stava sviluppando un nuovo insurance calculator pan-europeo che era necessario forse in linea con vari requisiti a livello locale il vecchio calculator non era mai stato testato e il tasso di conversione era basso per validare il nuovo design e le supposizioni del team di user experience c'era quindi il bisogno di testare l'insurance calculator con utenti dei vari mercati locali in particolare l'insurance calculator di Toyota è un tool utile per aiutare l'utente a ottenere velocemente e facilmente l'informazione di cui ha bisogno ed è uno strumento che permette all'utente di ottenere delle risposte in qualsiasi momento gli obiettivi del test richiesto da Toyota Insurance consistevano nel capire cosa pensano gli utenti dell'insurance calculator comprendere se lo considerano facile da usare e come ne valutavano l'usabilità scuvare i punti di frizione nell'ambito dell'usabilità e identificare possibili improvements Toyota Insurance ha quindi deciso di mettere al centro del suo insurance calculator il suo utente reale ovvero il prospect da tutta Europa abbiamo quindi eseguito un test il cui obiettivo principale era valutare la qualità dell'interazione dell'utente con il processo di calcolo dell'assicurazione auto abbiamo svolto un remote usability test selezionando utenti in target dal crowd di Anghess e provenienti da Francia e da Spagna abbiamo analizzato i video di navigazione degli utenti e raccolto le frizioni di usabilità rilevate attraverso l'apposito tool Anghess di VideoTag ma come funziona il VideoTag? il VideoTag è un tool presente sulla piattaforma di Anghess che permette di commentare e taggare in punti specifici i video degli utenti caricati in piattaforma di delivery dei risultati in questo modo vengono condivisi in modo veloce, efficace, i punti di frizione, le criticità dei video e gli elementi positivi direttamente sui video quali sono stati i risultati che questo tipo di test ha portato? prima di tutto il miglioramento delle user journey la risoluzione di problemi grafici l'ottimizzazione dei copy in quanto è stato ritenevato che alcuni utenti non comprendevano e trovavano poco chiari alcuni testi anche a detta di Toyota Insurance questo tipo di attività li ha aiutati a risparmiare tempo e lavoro del team di sviluppo e i video degli utenti sono serviti come base solida e oggettiva per discutere dei cambiamenti con i team di marketing locali